... ... ... ... ... è quello che si siede, si scende, si scende, si scende, si scende. E' un po' di più grande. Signora, signora, signora! Signora, 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 signora! Signora, signora, signora! Signora, signora, signora! Signora, signora, signora! La servizio di qua! Servizio da qui ragazzi! Dai Lasca! Buon Zahazal! Buon Zahazal! Verdina Questa! Grazie! Sta bene! Scusi! Buon Zahazal! Siena! 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 Siena!